Nel fine settimana sull'Italia prevarrà un promontorio di alta pressione che porterà aria calda in alta quota. Con ciò verrà garantita la stabilità sia sabato e domenica che vedranno delle giornate di cielo sereno su tutta la regione con temperature massime intorno ai 10 gradi su pianura e costa, meno 2 la minima in pianura, 4-5 gradi sulla costa. Temperature piuttosto alte in alta montagna, più basse ovviamente con inversione termica di notte nei fondovalle. Per la giornata di Natale, quella di lunedì, vedremo un po' di variabilità con più sole sui monti, specie in Carnia e più nubi invece verso la zona di Trieste, umidità come già detto in aumento. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador che con i suoi colleghi vi augura Buon Natale.